la sua purezza si apre la scatola sono quattro ingredienti punto è finito qui e da 20 minuti io ti dirà sì o no è immediato è tagliata come il nostro mestiere rischio pressione anche un grande super chef potrebbe entrare in crisi sia rispetto verso i concorrenti che poi devono tornare nei loro ristoranti fieri di aver partecipato magari dare la piccola speranza a qualcuno o un'ispirazione un modo diverso di affrontare il tema cucina e competizione e l'alternativa c'è alla base di tutto il grande rischio e la creatività che loro devono mettere a servizio della trasmissione realizzando il massimo che possono e soprattutto eleganza educazione grafica grafica